Va bene, sono pronto. Tenete gli occhi aperti. Vai, Squiddy! Presi! Oh, mi stava cadendo. Dove devo liberarli? Dove ti pare? Il più lontano possibile dal Krusty Krab. Qui va bene, Mr. Krab. No, allontanati. Qui va bene, Mr. Krab. No, allontanati! Qui va bene, Mr. Krab. No, allontanati. È meglio evitare qualsiasi rischio. Krusty Krab. Qui va bene, Mr. Krab. No, devi allontanarti ancora. Ecco, penso che qui vado bene. Forza, Rizzi, uscite! Ecco la vostra nuova casa. Correte, siete liberi! Uh-oh. Grazie a tutti.